BJJ Academy, lezione numero 2. Ciao a tutti, sono Valerio Mario Valdini, io sono Alessandro Magnoresi, un marino di Brazilian Jiucizio. Siamo all'Alex Gym Fight Club, questa palestra possa registrare il secondo video didattico di Brazilian Jiucizio, per gli amici di Marzia Ruoi. Allora, quello che faremo oggi saranno due tecniche, come il video precedente, sarà un ribaltamento e una sottomissione, sempre la posizione guante accesa. Andiamo a vedere con il dettaglio di casità. Allora, siamo qua, come si è visto l'altra volta, questa è la guarda. Allora, facciamo per tutti i ribaltamenti. Allora, parto con questo controllo, uno e due. Ok? Adesso, alzo il bacino e vado con il mio braccio sotto la sua gamba, quindi mi faccio uno spazio, entro sotto, qua. Adesso faccio ovviamente la leva al braccio, quindi da qua, apro le gambe e arrivo qua. Chiudo i miei piedi e vado con il mio orecchio più vicino possibile, qua, al suo ginocchio. Adesso, apro le gambe e faccio come una mezzogna presciata, qua, oscillo e la gamba qui sta sopra, vedete la sinistra, passa sotto. Altra gamba, la destra, spinge. Ok? Qua tengo il braccio bloccato, in modo tale che lui non possa fare base. Qua, oscillo, apro, e in. Giro. E vado in presenza di nuovo. Siamo qua nella cavallo, uno e due, questi sono i due controlli. Adesso, succo il bacino, la mia mano, passa sotto, e se no, qua. Adesso, apro le gambe e faccio il movimento dell'albero, qui da qua, uno. Arrivo qua, il guardia alta, ok? La mia testa è probabilmente più vicina possibile al suo ginocchio. Adesso, apro, spingo e tiro il mio braccio in questa direzione, non in questa. In questa, in modo tale che lui perde la base, giro, qua, ottengo la mano. Guardiamo l'ultima volta, nell'altra angolazione. Andiamo. Qua. Siamo qua. Uno, due. Qua. Entro sotto, vengo qua. Adesso, apro, allungo la damba, lascio e vengo su. Mi monta. Ok, guardiamo la seconda tecnica. Adesso, la partenza è come la prima. la guardia. Uno e due. Su col bacino. Entro sotto. Qua. Ora, come se fosse andava il braccio, salgo. Qua. In questo caso l'avversario fa un leggero scroll. Qua. E' difficile per me cercare di ribaltarlo, guarda, vedete? Qua. Guarda cosa faccio. Controllo il braccio. Passo. E vado in angolo. Da qua. Allungo. Vedete? Qua. E' più. Ancora. Uno, due. Su col bacino. Braccio. In questo spazio. Qua. Arrivo. Bene su con le gambe. Quindi l'avversario fa sprolle. E non ci faccio ribaltarlo. Controllo questo braccio. Da qua. A qua. Adesso passo la mia gamba. Qua. Continuo e volete il mio braccio. Su. Vedete? Adesso. Ginocchia. Venite a quattro. E vado in angolo. Bene. Ultima volta. Siamo qua. Su. Qua. Controllo il braccio. Verso la gamba. Tiro su. Adesso cambio. Controllo. E vado in angolo. Grazie.